Fiera Agricola 2020 si conferma manifestazione di riferimento per tutto il settore primario, sia per i numeri, sia per la sua vocazione sempre più internazionale. Per il presidente di Verona Fiera e Maurizio Danese, la manifestazione si inserisce nella rosa delle principali proposte della Fiera Scaligera. Abbiamo riconformato i numeri, 132.000 persone, visitatori, il 15% di questi stranieri, tre ministri presenti a una fiera, ricordo la Bella Nova, mi ricordo anche il ministro Di Caglieri e soprattutto anche la ministra croata, che tra l'altro Croazia era il paese ospite. Due grandi studi grazie al nostro osservatorio, al nomismo Fiera Agricola Fiera Verona, quindi credo che Fiera Agricola e Verona Fiera abbia fatto un ottimo lavoro e abbia dato un buon contributo a questo settore, che è in grande evoluzione. Una presenza particolarmente diffusa dell'agricoltura italiana e questo è un dato di novità. C'è stato sicuramente uno straordinario risultato nella parte zootecnica della Fiera Agricola, con la presenza dei più importanti concorsi, che rappresentano però sotto il concorso c'è anche una presenza allevatoriale straordinaria, che può competere con le migliori tradizioni europee. Credo che lasciamo questa Fiera Agricola con la forte convinzione che il cuore dell'agricoltura italiana ha ritrovato la sua casa proprio a Fiera Agricola. Appuntamento quindi a Fiera Agricola 2022, con la sua proposta sempre più trasversale tra sostenibilità ed economia circolare.